Direnzo, attraverso un comunicato voi avete manifestato il vostro malcontento, avete criticato il centrodestra perché i tempi sulla nuova Pescara rischiano di allungarsi e sul banco degli imputati per il Movimento 5 Stelle c'è proprio il centrodestra. Assolutamente, il centrodestra che è alla guida della regione e quindi sarà con i loro voti che dovrà passare l'emendamento che è stato visto nei giorni scorsi. A noi sembra un'operazione molto grave, ricordiamo che tra il 70% degli elettori che hanno votato sì al referendum per l'istituzione nuova Pescara c'erano anche decine di migliaia di elettori del centrodestra e quindi bisogna che il centrodestra al governo della regione si prenda le proprie responsabilità sia per questo atto che mette in dubbio tutto il percorso ma sia anche per l'immobilismo che c'è stato negli anni scorsi. Ricordo che dalla regione erano stati stanziati 300.000 euro per il supporto a questo iter amministrativo che non sono mai arrivati e quindi è ora che il centrodestra in regione si prenda le proprie responsabilità.